eccoci Diego Rendini insieme alla star Zeus il mio cagnone siamo al primo gennaio del 2015 siamo all'inizio dell'anno e voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che stanno seguendo la mia pagina facebook il sito internet e anche tutti coloro che hanno già letto il mio primo libro 10 casi per rendini grazie grazie di cuore soprattutto per i vostri commenti molto positivi e anche per le vostre domande di approfondimento le vostre richieste ed è proprio grazie a questo e per ringraziarvi che ho deciso di portare avanti delle iniziative per il 2015 tra cui l'attivazione del mio canale youtube io e Zeus pubblicheremo dei video tutorial su questo canale in cui parleremo del comportamento del cane del gatto le loro problematiche il loro modo di comunicare le attitudini di razza e inoltre andremo ad affrontare anche tutte quelle che sono le leggende metropolitane che fino ad oggi hanno un po influenzato in negativo purtroppo il modo di relazionarsi con questi amici a quattro zampe quindi vi aspetto numerosi vi ringrazio ancora e colgo anche questa occasione proprio per augurare a tutti voi un felice sereno e appagante 2015 grazie da parte mia e da parte del cinghialotto a presto ciao